Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In direzione Bologna, code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12 fino alle 20 di stasera per lavori è chiusa l'entrata di Rosignano Marittimo in direzione Genova. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!